Lorella Cuccarini come non l'hai mai vista, la celebre showgirl italiana non riesce a trattenere le lacrime, ecco perché Punta a prescindere a generazione tua partenga, non puoi non conoscere Lorella Cuccarini Cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, la donna sa fare proprio tutto e, anche a distanza di anni dal suo esordio, dimostra di reggere il confronto con tante altre showgirl del giorno d'oggi Un fisico da urlo le permette di ballare e scatenarsi sul palco, come se avesse ancora vent'anni Lorella è una vera e propria forza della natura e lo ha dimostrato in più occasioni, soprattutto nel talent show di Amici di Maria De Filippi Entrata prima in qualità di docente di ballo e, negli ultimi anni, passata alla sezione canto, la Cuccarini ama mettersi ancora in gioco Nonostante abbia quasi 60 anni, la sua forma fisica è da invidiare ed è lei stessa ad aver ammesso di prestare un'attenzione meticolosa alla sua salute e al suo benessere Ma, dietro la sua figura sempre perfetta c'è molto di più e lo ha dimostrato di recente, quando si è mostrata come nessuno l'aveva mai vista Lorella è scoppiata in lacrime, lasciando tutti senza parole Scopriamo insieme cosa è accaduto.La sensibilità di Lorella.Che la Cuccarini fosse dotata di una sensibilità estrema non è una novità, ma nessuno avrebbe mai immaginato che potesse arrivare ad avere una reazione del genere La donna ha sempre vissuto la sua carriera al massimo, mettendosi in gioco, spingendosi oltre i propri limiti e ottenendo dei risultati incredibili Forse, è anche per questo che Maria De Filippi l'ha scelta per essere uno dei volti del suo programma di punta, Amici In confronto alle altre due insegnanti, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, Lorella viene definita spesso mamma chioccia, perché tende a proteggere i suoi allievi In quest'ultima edizione, la donna è arrivata al serale con Mida e Sara, due ragazzi diversi tra loro, ma accomunati dall'amore per la musica e dalla voglia di lavorare e crescere Nonostante la coach una carriera e un'esperienza stellare alle spalle, non ha saputo nascondere la commozione provata nel vederli in finale Ma, c'è un altro dettaglio che l'ha lasciata in un mare di lacrime Anche in quest'ultima edizione di Amici, Lorella ha dimostrato di avere un cuore d'oro, fino alla fine Dopo anni dalla sua prima partecipazione, finalmente, ad alzare la coppa è stato uno dei suoi allievi A vincere Amici 23 è stata Sara Toscano, la diciottenne entrata in punta di piedi nel talent ed esplosa puntata dopo puntata La sua tenacia, la sua voglia di imparare e di mettersi alla prova l'hanno portata alla vittoria Era tutto ciò in cui sperava davvero Lorella, che avrebbe confessato, quanto ho pianto Per la Cuccarini, questa è stata una grandissima soddisfazione, una gioia indescrivibile, che l'ha portata a versare fiumi di lacrime Per congratularsi con la vincitrice, la coach ha deciso di scrivere un messaggio commovente sul web, che racchiude tutto il percorso di Sara La professoressa ha mostrato, ancora una volta, tutta la sua empatia e la sua dolcezza Lorella sarà sempre dalla parte dei giovani e del talento